ok questo non c'entra niente con cosa sto facendo di soldi ma non ho precisato perché erai dico diciamo che c'entra niente con il bambino vabbè questo è l'impertinente del capo del marco ok questo è il bambino io sono trans ora sto girando trans uccidi dieci uccidi dieci combattenti per vincere tu ma ci va allora ecco il primo bambino guarda il cappellino l'ossettino il piccolino il rito i genitori che ho stanno guardando saluto ciao ecco incontri ma di lasciate mua 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 mi ha bruciato no proprio bruciato però sempre Ok, non ho più paura, non mi posso trasformare gli Super Saiyan, e ciò, vediamo di ti chiede questo un più ordino per me, cavolo, ma bezzica ragazzi, uè, eh, eh, perché ti sei iscritto al torneo? Perché ti sei iscritto al torneo per farti figo con l'altra ragazza, sono una perda, adesso lo sai di più di livello, se salto più, perché qua inizi dai livelli di studio a c'è l'anno 60, ok, però prima di continuare mi alzo lì per tutti i lato power, che non sarà, che ora non dico il corso stato, però non lo si vincere, ok, guarda, ho di nuovo la rinici, quella rinici, cosa è lontanato da rinici, però non si rimette nel mezzo ne ho fai che, beh, beh, prima di queste volte ho sfiorato, ora era vent'era, ci sarà, beh, ci sarai come? Oh, il dio dopo Già voglio vittare la bro lightning, dobb Bruno. Adesso voglio, adesso prendo il punto di risorse, altro 3 punti, lo sai va, 1 pto 4, eè, il mio dio, mio dio che bezzit fa figo, beh, no, ecco, ma ecco, dovete Ahhh man2I a land, ok, ora se voglio provare questo che so già forse per una bionca in nemico guarda guarda dai no non mio dio no ti dico di stare fermo ti dico di no mio dio non mio dio non mio dio ti faccio più non mio dio ti faccio più ma sicuramente faccio schifo guardalo 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 guarda c'è il fisico a fare non lo faccio più di tutta basta s'il borno still guardate eh ciao scappa vai scappando voce si vede voce ages Ti faccio morire il bruciato davanti ai giochi di pomare, vuoi vedere com'è? Vuoi vedere come ti faccio morire il bruciato davanti ai giochi di pomare? Anche se mi sono... L! Fighters! Ok! Guarda! Guarda! Stavo cercando di scappare! E' qua! E' qua! Meeh! Ora siamo davanti ai giochi di pomare! Mori... Brucciato! E sono saliti di livello! Ok! Ho persigliato io! No! Il mio bambino! Beh, questo mi dura circa 7-8 minuti. Ok! Tu sei combinato con la soluzione dei tre punti. Ok! La ridicità del... A volte ti ammazzo colpe di stere energetico. Ok! Non ti posso buttare! Voi ci sono stati bellissimi! Ma fermate! Ma dai! Io se... Non cambiano! Se sono iscritti a tornare a quanto... 5 bambini... Io... Godin... Quello che cattivino... Questo qua è un altro biondo che... Che ormai non accenge la mano! Perché il biondo non compai più! Se serve un sacco... Violentino! Non mi va! Ok! Basta! Mori il suono! Yeeey! Bruccia! Voglio 64! Per il 3,65... 12! 8! Però... Io mi prendo i punti... Mmm... Sul gioco io lo voglio finalmente! Vabbè basta! Aaaaaaah! No! Quindi potremmo buttare... Super Saiyan! Lasciamo dove... E l'ultima volta abbiamo... Abbiamo fatto quello con il capellino... Tra l'altro è stato a piangere dalla madre... Non è andato più a tirarsi i pantaloni... Ok! E li facciamo stare! Ve lo sto qui di tutti! Ora c'è contro Goten! C'è contro chi ha combattuto Goten! Non si sa ma può essere contro Goten! Ora vi serve dovremmo fare una scelta! No! Uffa! Perché? Volevo Goten! Allora vabbè... Allora... No ma stavo pure per segnare di dire... Goten! Sì! No non posso trasformare... No... Non posso... Vabbè... Vabbè... Quanto sta per morire... Eh! Non l'abbiamo... C'è... Gli abbiamo... L'abbiamo ammazzato in teoria... Però... Lui fa... Ricoprire una risorsa... Per trasformare... Io sono segnato... E lui... Mi sta scatando... Il labbo... Si ricorda... Disco Saiyan... E... Diciamo che... Vabbè... Ok... Ora ci possiamo trasformare... E voi... E sarà un incontro epico... Ta-da-da-da-da... Vi metto i tre punti... Che io... Sono un genio nel tempo dei punti... Perché questo è il mio momento... Perché... Che sta diciamo che... Vabbè... Gli abbiamo a tornare... I troppo... Tu... We ofre. We ofre. We ofre. We ofre. We ofre. Ofre. se vi è chiesto sforziate già clicca se siete presaggianti e sforziate ai pairs signori e signori un nuovo vittore, il nuovo junior campione del mondo è trans signori e signori ora comincerà a completicere le due vabbè, facciamo quello che dice il verso che è ovvio è a 7.30, vabbè ci mostrano eh, questo lo vedete appunto, vabbè, sentite ragazzi, non ci amico più, interrompo qui, ciao a tutti